Sta per avere inizio ufficialmente la stagione 2017-2018 alla scuola basket Arezzo, presidente Mauro Castelli, una giornata intensa, una giornata emozionante, ma tanto lavoro per apprestare questo magico inizio 2017-2018. Sono giornate un po' intense, dobbiamo organizzare tutto, sono tanti bambini, tanti ragazzi, quindi abbiamo cercato di far conoscere un po' qual è la nostra realtà retina, sono 350 ragazzi, quindi è una situazione un po' difficile anche da tenerli tutti dietro i spogliatori. Quindi è il momento in cui cominciamo, siamo un po' tutti agitati, quindi speriamo che vada tutto bene. Diciamo che l'idea di questa nasce dal fatto che vogliamo far conoscere che Arezzo non c'è solo calcio, ma ci sono anche tanti sport minori come la pallacanestro, in questo caso, dove ci sono dei numeri, dei numeri importanti e li potete vedere stasera durante questa cosa. Era giusto presentare tutte le squadre, diciamo con tutti i propri sponsor, alla città e a tutto il mondo della pallacanestro. Quindi Lungimiranza non soltanto nell'avere scelto un palaestra sport, un veramente magico palazzetto ricostruito dalle ceneri, praticamente di quel tifone del 24 agosto dello scorso anno, ma anche Lungimiranza nel creare un veramente numeroso vivaio a cui attingere per la prima squadra. Sì, noi puntiamo molto sul settore giovanile e sul mini basket. La cosa bella è che già quest'anno ci sono tantissimi bambini nuovi iscritti e questo ci riempie veramente il cuore e siamo orgogliosi di questo. Quindi stiamo andando molto bene, speriamo di anche riuscire a fare qualcosa di meglio nel campo.